Il terzo concorrente di questa sera è Ardun Kanyan David di Nazionalità Russa e Cittadinanza Russa di anni 27 che eseguerà nell'Ordine Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto in La Maggiore KB219 secondo e terzo movimento e cadenza di Josef Joachim di Camillo Sivori lo studio capriccio numero 3 per violino dai 12 studi capricci opera 25 revisione di Fulvio Luciani di Johann Sebastian Bach la ciancona dalla seconda partita in re minore e di Rodolfo Lipitzer le variazioni sostenuto veloce e vivace dalla tecnica superiore del violino dopo questo concorrente ci saranno 10 minuti di ingattamento grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti